Raffaele, la mia prima domanda è che cos'è Mangatar? Ok, è un gioco di ruolo online, social, ambientato nell'universo manga. Perfetto. Definizione netta, semplice per partire. Ok, dimmi di più di che cosa si tratta e com'è nata l'idea. Ok, quindi adesso approfondiamo le diverse parole che ho messo in fila così. Allora, è un gioco che non necessita di installazioni, di download perché si gioca all'interno del proprio browser, quindi basta solo una connessione ad internet, quindi un gioco sullo stile, faccio qualche nome famose, quindi magari qualcuno riconoscerà in Farmville, Cityville, nomi di questo tipo, i classici di Zynga, ecco, quindi quella tipologia di giochi. Il nostro ha la caratteristica, come dicevo prima, di essere ambientato all'interno dell'universo del fumetto giapponese, del manga. E anche il nome è mangatar, che è l'unione di due parole, quindi della parola manga e della parola avatar, rappresentare il fatto che gli utenti giochino con degli avatar che sono manga. Questa sicuramente è una delle prime caratteristiche che lo contraddistingue, quindi il fatto che l'utente ha la possibilità di costruire, generare da solo i personaggi che poi andrà ad utilizzare all'interno del gioco. Quindi, mentre siamo di solito abituati a giocare online con dei personaggini assegnati dal computer abbastanza anonimi, abbastanza standard, quasi sempre si tratta di personaggio, quindi utente uguale personaggio. Nel nostro caso, attraverso la creazione dei propri avatar, l'utente ne può interpretare più di uno, quindi se li realizza attraverso il motore che abbiamo all'interno di mangatar, che è un po' il cuore del sistema, che permette di creare questi personaggi attraverso centinaia, anzi migliaia di combinazioni di elementi disponibili, e poi questi personaggi che ha creato li utilizzerà all'interno del gioco, quindi saranno i protagonisti degli scontri, delle battaglie, delle dinamiche che avverranno all'interno dell'universo mangatar. Quindi com'è nata l'idea? L'idea è nata a pezzi, è nata un po' alla volta, a dire la verità, nel senso che abbiamo messo insieme diverse esperienze, quindi diverse idee anche che avevamo, tra di noi, tra i diversi componenti del team. Avevamo già lavorato insieme in passato, avevamo fatto anche altro, avevamo lavorato nel mondo delle app, avevamo lavorato anche sul web e così via. L'idea all'inizio era quella di fare un generatore di avatar, ci stavamo lavorando ad un generatore di avatar, come ce ne sono tantissimi in rete. Man mano che la cosa andava avanti, quindi era un progettino da tempo libero, quindi da weekend da lavorarci un paio di ore la sera, aggiungevamo un più, pensavamo a metterci la gamification, pensavamo a metterci la community, poi abbiamo detto ma perché questi avatar, gli utenti non possono farne un uso un po' più avanzato, abbiamo visto un po' le limitazioni che c'erano in giro in sistemi di questo tipo, essendo molti di noi anche giocatori, essendo legati anche molti di noi al mondo manga e così via, abbiamo unito un po' queste idee che avevamo avuto nel tempo e alla fine è venuta fuori l'idea di fare un social game, quindi abbiamo pensato di dire, facciamo sì che gli utenti possano sfruttare questa notica, che è appunto la personalizzazione estrema dei propri personaggi, ma che dopo ne possono fare un uso all'interno di un gioco, cosa che attualmente non è possibile fare sul web, con i giochi che ci sono disponibili. Dimmi un po', qual è invece il vostro modello di business? Il classico di questo settore, quindi appunto parliamo di browser game, quindi parliamo di un modello freemium, gli utenti si iscrivono e giocano gratuitamente, quindi non c'è bisogno di fare per l'accesso al sistema, per l'accesso al gioco, e quello che invece possono acquistare, quindi dal quale noi abbiamo il nostro guadagno, sono le funzionalità premium, sono delle personalizzazioni aggiuntive, dei virtual goods e così via, quindi alla fine attraverso i classici sistemi di micropagamenti, arrivo, ho bisogno di un'arma più potente, 70 centesimi la compro, ho bisogno di una pozione per risuscitare il mio personaggino, 1,20 euro la compro e così via. Chiaro, e mi potresti dare un po' di numeri per Mangatar? Allora, noi siamo online da fine settembre, con la beta pubblica, quindi sì, fine settembre, più o meno era questo periodo, questo qua, intorno al 20, e abbiamo da poco superato i 13 mila utenti iscritti, e stiamo per la soglia dei 20 mila Mangatar creati, quindi 20 mila personaggini creati dagli utenti. Chiaro, un'altra domanda che ti vorrei fare è, quali sono le prospettive di crescita per il futuro? Vabbè, sicuramente, il progetto adesso è in beta, quindi siamo aperti al pubblico, però è ancora in beta, la parte più importante, che alla fine sono le dinamiche di gioco vero e proprio, non è ancora online, è quella che stiamo completando, sulla quale stiamo ancora lavorando, quindi sicuramente il primo step sarà lasciare il layer appunto di gioco vero e proprio. Questo sarà fuori a marzo 2012, quindi usciremo con una prima versione del gioco, e lì faremo i primi veri test sul campo, per vedere come gli utenti recepiscono questa cosa, cose che già stiamo facendo con le funzioni che attualmente presenti online, quindi tantissimo feedback da parte degli utenti, suggerimenti di tutti i tipi, li prendiamo molto in considerazione, facciamo rilasci quasi settimanalmente con le cose che ci chiedono. Ovviamente è un bel po' di test sulla parte di gioco vero e proprio. Stiamo contemporaneamente anche lavorando alla versione mobile di Mangatar, e quindi un altro step importante sarà sicuramente quello di entrare sul mercato del mobile, quindi inizialmente con iOS e con Android, con delle app dedicate. Nonostante il sistema sia già compatibile, quindi tutto quello che è attualmente online funziona ad esempio benissimo già su iPad, è tutto realizzato in HTML5, anche il generatore di avatar, appunto in modo tale che finché non è pronta l'applicazione, comunque è possibile utilizzare il sistema. E poi diciamo, una volta fuori con questa cosa, ci sarà molto da lavorare sulle dinamiche di gioco. una cosa che poi è fondamentale nel nostro gioco sarà appunto l'interazione tra gli utenti, visto che sottolineiamo parecchio questa cosa del social game, stiamo cercando di creare delle dinamiche molto sociali nella modalità di gioco stessa dell'utente, quindi vogliamo molto che gli utenti debbano fare team up per portare a termine delle missioni che sia necessario interagire parecchio nello svolgimento del gioco. Perché una caratteristica importante di Mangatar è il fatto che quello che avviene sul gioco, quindi gli scontri, le missioni e così via, sono, diciamo così, in un certo senso dei capitoli della tua storia manga. Quindi alla fine è come se avessi un grosso fumetto. Ogni giocatore su Mangatar ha un fumetto personale che si è creato in automatico, nel tempo, in base a quello che è fatto sul sistema. Quindi quest'idea di sfruttare parecchio questa origine giapponese dell'idea, quindi molto manga, unirla al gioco e far sì che dopo l'utente abbia uno storico di quello che è successo, però ce l'abbia sotto una forma grafica cattivante. L'altro giorno siete finiti su Wired con Mangatar e siete stati definiti coloro che sfidano Zynga. Quali sono le ambizioni? Ovviamente sfidare Zynga, come abbiamo già detto a Wired. No, vabbè, a parte gli scherzi. Il settore, questo dei social game, è molto molto interessante, nel senso che ci sono grossi numeri in ballo, ci sono grossi attori sulla scena che stanno facendo veramente numeri da capogiro e esistono delle realtà molto molto importanti anche non americane. a livello europeo ci sono delle aziende molto forti nel nord Europa, in Germania e così via, che sono ormai sulla scena da tantissimo tempo e sono delle realtà affermate. Diciamo che noi sicuramente vogliamo entrare a far parte di questa grande famiglia, quindi diventare una realtà nel campo del social game di livello internazionale, inevitabilmente. Cioè questo è un prodotto che ha un target internazionale. I nostri utenti, attualmente, l'Italia è tipo la quarta, quinta nazione a livello di provenienza, quindi non puntiamo sicuramente al mercato italiano, ecco. Mi potresti dire quali sono i primi invece come provenienza? Sì, stavo dicendo proprio quello. Sicuramente c'è tantissimo interesse dal Sud America, in particolare il Brasile, una nazione tantissimo legata ai mangatar, non abbiamo capito ancora il perché. Poi in Europa va molto forte la Francia, anche, c'è un bel po' di interesse anche dall'Indonesia, poi, se non erro, arriva l'Italia, in ordine di, diciamo, numero di utenti e traffico che avendo attualmente. Quindi quarta, quinta nazione d'Italia, poi c'è Europa, Sud America, Asia, quindi già questo ci dà, appunto, la conferma che sia un prodotto con un target internazionale. Ok, possiamo aspettare delle evoluzioni, dei cambiamenti in quello che è effettivamente il gioco, al di là, insomma, delle prospettive di crescita che avete? Sì, 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 certo, certo. Questo penso che sia praticamente obbligatorio in un progetto di questo tipo, nel senso che adesso noi abbiamo, sì, la nostra idea, pensiamo di fare avanti questa cosa e abbiamo in mente già tutta una serie di step che vogliamo fare. Però, come dicevo un paio di domande fa, sarà importantissimo fare molto, molto testing con gli utenti, vedere come vengono recepite determinate dinamiche, appunto, magari ti rendi conto per strada che questa cosa non funziona, che sono più affezionati a questa modalità e così via. L'idea è sicuramente quella di dare più di una modalità di gioco, quindi, diciamo, permettere diversi tipi di interazione, diversi tipi di scontro e così via e questa testarla con un bel gruppetto di utenti all'inizio e farci dare, appunto, ecco, magari qualche suggerimento, indicazione e così via che ti permettono di correggere la rotta poi nel tempo. Abbiamo previsto già un bel po' di cose, quindi, diciamo, penso che ci saranno delle novità, almeno per i prossimi sei, otto mesi abbiamo già chiaro in mente cosa rilasciare. Poi, con che velocità risponde il mercato e quindi, di conseguenza, noi ci adatteremo. Il che mi porta alla mia ultima domanda, che è fondamentalmente che cosa dobbiamo aspettarci nel tempo breve, insomma, la scadenza breve è una scadenza un po' più lunga. Scadenza breve, tipo quanto? Due settimane, tre settimane, per esempio. Ah, quindi brevissima, diciamo, fine mese... Diciamo così, dai, brevissima, breve e lunga. Allora, quella brevissima proprio è l'introduzione della gamification, quindi adesso stiamo lavorando sul sistema di achievement, beige, livelli e così via. Questa cosa sarà introdotta prima dell'introduzione del gioco vero e proprio, perché vorremmo appunto renderla disponibile già agli utenti che attualmente utilizzano il sistema, quindi che semplicemente creano avatar, li condividono, fanno raccolta e così via. Quindi iniziare ad inserire appunto già qualche dinamica un po' più orientata al gioco. nel lungo periodo, invece, sicuramente, prossimo step, quello di marzo, quindi rilascio della beta del gioco, prime modalità di scontro e quindi l'arrivo vero e proprio di questo sistema ambientato nell'universo manga. Benissimo. Raffaele, io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi oggi. Grazie, grazie a te.